Purtroppo ancora una volta, anche se per via Facebook, ho ricevuto delle minacce, delle frasi bruttissime che io interpreto come minacce di morte da un mafiosetto che vive al nord Italia. Questa cosa mi ha fatto non solo me ma tutta la mia famiglia ripombare negli anni bui delle minacce che ho subito. A queste persone voglio lanciare un messaggio chiaro nel dire che non mi farò mai intimidire e che continuerò a denunciare. Mi ha chiamato per via Facebook Sbirro. Bene, io sono felicissimo e onorato di essere Sbirro perché in un periodo storico come quello che sta vivendo la mia città, la mia terra, ma la mia città in particolare Vittoria, la denuncia è l'unica via che ci può fare uscire da questa melma perché Vittoria è una città di persone oneste, di persone che lavorano e lavoratori. Se c'è qualche mafioso lo butteremo fuori da questa città, lo butteremo in carcere e non lo faremo più respirare. Grazie alle forze dell'ordine che immediatamente hanno raccolto la mia denuncia e auguro a tutte queste persone di finirla, di stare tranquilli, di stare in pace con se stessi. Questa persona mi ha chiamato Sbirro. Bene, io sono onorato di essere Sbirro perché voglio che la mia città, la mia terra di Vittoria, sia una terra non tacciata come terra di mafia, ma come terra di persone che lavorano e si guadagnano il pane onestamente. Grazie a tutti.